Che giornadaccia ragazzi, il giorno dopo è ancora peggio, il giorno dopo è ancora sfogo ragazzi, che giornadaccia Ieri si è giocata l'Atalanta-Roma, poi ho la tosse, quindi se mi mettesse a tagliare ogni colpo di tosse che farò in questo video vedreste il video nel 2051 Ragazzi, che giornadaccia, io resto basito, ancora una rimonta, ancora non abbiamo imparato niente Da Torino settimana scorsa, da Cagliari da 2-0 a 2-2 in nove, da Chievo da 2-0 a 2-2 contro il Chievo-Verona, ancora non abbiamo imparato niente Settimana prossima c'è Roma-Milan, settimana prossima ragazzi alla Roma mancano dei rossi, Mzonzi e Cristante, ci manca tutto il centrocampo Ma non sarà, non sarà che magari serve anche un centrocampista, non sarà che la Roma dovrebbe provare a prendere un centrocampista Ma no perché, ma no perché, dici sotto l'infurdo di Moco, ogni volta che si rompe uno compramo un altro No ragazzi, no, ma non sarà che alla Roma gli serve un giocatore, visto che siamo contati, siamo cinque Siamo cinque per tre posizioni che sono un pochino pochi Il sesto è Cioric, che gioca, forse quando stiamo a perdere 6-0 in Champions, lo mette di Francesco Quindi forse non sarà che servirebbe un altro centrocampista, un'altra mezzala Poi ragazzi, se tu avessi vinto a Bergamo, oggi staremmo parlando di una Roma che in casa contro il Milan potrebbe tranquillamente pareggiare e rimanere sopra Invece adesso se pareggi va a loro, cioè questo è il discorso che va fatto e non solo perché anche con gli scontri diretti sei sotto Sei sotto anche con gli scontri diretti Io avevo pronunciato il 3-1 per l'Atalanta, quindi insomma non pensate che io mi aspettassi magari, che ne so, tipo una Roma brillante Però vai avanti 0-3, cioè quello è il discorso, tu vai avanti 0-3, poi dietro c'è un centrale veloce Io penso che su questo ragazzi si possa dire veramente poco Manolas difende da solo, Manolas difende da solo, Manolas è sempre dietro da solo Non è possibile, non è possibile, Fazio è lento, Marcano è lento e sciocco, mi dispiace ma è così Jesus, vabbè, Jesus è una buona riserva, però noi gli può mettere Jesus in marcatura su Dovan Zapata Famosa HP, Olsen ieri male, 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 come fai tatticamente, poi io mi domando di Francesco mio Ma come fai a giocare alla difesa alta, perché l'arrivo ha giocato alla difesa alta Tu puoi giocare alla difesa alta se c'hai un portiere come Alisson che va a fare il libero praticamente Che va a giocare, che va a impostare i piedi al posto del difensore centrale, ok, lo puoi fare Ma dal momento in cui Olsen è un, non lo so, uno che non si muove dalla linea di porta, ok Che non esce mai nemmeno per sbaglio, nemmeno sul comando esce inchiodato sulla linea di porta Come fai a giocare alla difesa alta? Per me è impensabile Tra l'altro su tutte e tre i gol c'è colpe, secondo me, su uno un po' di più, su uno un po' di meno Però su tutte e tre sono ritrovabili delle colpe, secondo me, troppo macchinoso, troppo lento, troppo poco reattivo Fuori forma, ieri Olsen non mi è piaciuto per niente Su Karsdorp, ragazzi, ok, lui l'ha detto, ha detto io ragazzi sono più un giocatore da centrocampo Da laterale di centrocampo, 3-5-2, spingo e difendo poco Però, non so se siamo noi stupidi che abbiamo preso un terzino che difende poco Per metterlo terzino, o sia lui che è altamente limitato Però dal momento in cui ti ho pagato 18 milioni di euro e tu sei fa solamente un ruolo In cui, diciamo, con cui giocano un paio di squadre e basta Allora c'è qualcosa che non va Manolas, ripeto, tanta roba Poveraccio, poveraccio, poveraccio Ha sfidato Duvanzapata per tutta la partita Lo ha fermato, lo ha sfidato a campo aperto, lo ha fermato Poi è crollato anche lui, però ragazzi, ma capite che questo deve Cioè, dici no, io ti ho sfidato Duvanzapata a campo aperto Dall'altra parte c'è un difensore che va a tamponare L'altra parte, l'altro reparto Non è così, Manolas faceva tutto Duvanzapata e il resto Duvanzapata e il resto E prima o poi crolli, è normale Marcano peggiore in campo 4, veramente peggiore in campo Che poi fosse solo scarso, capirei, non me la prenderei con lui Dice, oh, perché te la prendi con lui? È scarso, la colpa è di chi l'ha preso, ok Ma non è solo scarso, quando io dico che è sciocco È perché mi si mette a fare i dribbling A centrocampo e perde il pallone Cioè, è una cosa impensabile Cioè, già che comunque, dici, lo fa Manolas Che c'ha Duvveri d'assino al posto dei piedi Però nel senso, come posso dire Si è fatto apprezzare a Roma Per motivi abbastanza ovvi Insomma, un gran difensore ha sempre giocato bene Fa una cappellata e gli si dice Manolas, però che cazzo Cioè, col Cagliari ha fatto una cappellata È scivolato in ritardissimo Aveva preso colpo il colpo suo Adesso, se no, se non fosse stato per lui lì Ci avremmo avuto due punti in più E staremmo parlando di un piazzamento Champions in questo momento Però che si perdona perché? Perché ha fatto tantissime altre cose per la Roma Visto che tu sei marcano Che stai facendo cagare, cagare, cagare Giochi poco e fai cagare Giochi poco e quando giochi fai cagare Evita di fare queste cose Gioca semplice Cerca di farti apprezzare dal pubblico Facendo cose basilari, elementari Però importanti allo stesso tempo Fondamentali per non prendere gol Kolarov a fine primo tempo ha mangiato la segatura Probabilmente gli è andata nel cervello Perché primo tempo ha giocato un primo tempo Scusate, i primi 45 minuti ha giocato Ha giocato veramente molto molto bene Nel secondo si è rimbambito Ma anche il fallo su Ilicic No, cioè, lì lui prende solo Ilicic Prende solo Ilicic Ma come fai a prendere solo Ilicic? Cioè, nel senso, ma che cavolo? Ma che ce vedi? Doppio E poi nel secondo tempo lento È stato schiacciato Non è più riuscito a fare niente Zonzi bene, Zonzi finalmente bene A parte ha fatto l'assist per Dzeko Poi dietro ha chiuso moltissimo Spesso è stato costretto lui Ad abbassarsi sulla linea dei centrali di difesa Perché Marcano stava per fratte E quindi era lui che andava a prendersi il pallone Se poi ovviamente prova ad osare Sbaglia Perché non è un giocatore che può osare Non è un giocatore che può dare qualcosa in più Ragazzi, mettiamocelo bene in testa Perché non lo è Però diciamo che 30 milioni sono tanti, ok? Su questo penso che bisogna subito Metterci una sentenza Diciamo che è un giocatore da 15-18 milioni di euro Però va bene così Cioè se mi fa così Se gioca così Per tutta la stagione mi va bene così Cristante Ni Cristante Ni Non male A tratti mi sembrava il cristante di Bergamo A tratti mi sembrava il cristante di inizio anno E in un paio di occasioni ha perso tempo Ha perso tempi di gioco 2-3-4-12 tempi di gioco Ritardando parecchio la manovra E quindi abbiamo perso pallone Zaniolo ragazzi Zaniolo è fortissimo Zaniolo è fortissimo Zaniolo fortissimo È spettacolare Spettacolare l'assista di petto Ma poi al di là dell'assista di petto È elegante Sta dappertutto Alza la testa Guarda chi passa il pallone Recupera un sacco di palloni a centrocampo È veramente fortissimo ragazzi Qualcuno mi ha chiesto Sik ma tu che Se tu la daresti la 10 A Zaniolo in un futuro Io gli dico Regà a Zaniolo la 10 Quando io la do Si rimane così Le fa 10 anni così di Roma Tra 10 anni Quando c'ha 28 anni Mi fa un rinnovo di contratto Di 6 anni Senza clausola di decisori Gli do la 10 Ok perché se la merita C'è tanta C'è tanta merda da mangiare In questo momento Almeno che la Roma Non mi prenda Messi Nessuno avrà la 10 In un modo semplice A mio modo di vedere Poi ovviamente Ripeto Se la Zaniolo Tra 10 anni A 28 anni È sempre così Ha fatto tutte le partite così Rimane a Roma Giura fedeltà alla Roma E fa un rinnovo dei 6 anni 5 anni 6 anni A 28 anni Quindi fino ai 33 Ai 34 anni E senza clausola di recitare A quel punto ci posso anche pensare La 10 in questo momento ragazzi È intoccabile Tra l'altro posso dire una cosa Ha giocato Ala Perché non se ne fosse accorto Quindi in un ruolo non suo Lui ha detto addirittura Mi trovo meglio mezzala L'hanno sposato tre quartista Poi Ala Cioè ha preferito addirittura Spostare Ala Zaniolo piuttosto che Pellegrini Nonostante Pellegrini Insomma ci abbia più anni Ci abbia più esperienza Perché Di Francesco si fidava più di Zaniolo Questo va a capire molto sulla maturità Tra l'altro Lorenzo Pellegrini Insufficiente Male Ha giocato male Non mi è piaciuto Va troppo troppo leggero nei contrasti Questa è una cosa su cui deve migliorare Perché Ha perso il posto A titolare Come mezzala Centrocampo E se lo spostava tre quartista Perché era leggerino Per ogni volta andava in contrasto Perdeva il pallone Veniva spostato Veniva schiantato L'hanno preso L'hanno spostato Perché Almeno lì Serviva più eleganza E quella gli bastava Però non è possibile Che ogni contrasto Quando vai affrontare Un centrocampo tosto Come quello dell'Atalanta Come vai affrontare Una squadra organizzata Come quella dell'Atalanta I contrasti Li devi vincere Poi mi prudere il naso In un modo assurdo I contrasti devi vincere Li ha persi tutti Fragilino Non mi è piaciuto Pellegrini Mi è piaciuto il Sharawi Bene Discontino come sempre Non da una partita An'altra Ma da un minuto A un altro Il discontinuo E il Sharawi Tra l'altro Non ho capito Perché di Francesco L'ha tolto Sinceramente Non l'ho capito Cioè ragazzi Stava facendo bene Hai visto Kluivert Che ha fatto una partita Di merda Ragazzi Ieri Kluivert È stato odioso È stato odioso È andato il peggiore In campo insieme a Marcano E questo fa capire Solo da schiaffi Da schiaffi irritante Addirittura a un certo punto Di Francesco Ha urlato dalla panchina Ha urlato Dopo Kluivert Dopo Justin Me lo mangio Cioè ragazzi È stato proprio irritante Non lo so Mi veniva voglia Di prenderlo a schiaffi Benissimo Dzeko Migliore in campo Doppietta da punta Vera Ha fatto ieri Tutti cose che ha fatto Fino adesso Non l'ho capito Perché ha fatto così male Fino adesso sinceramente Ed in Dzeko Certo che va detto Che però Quando andassimo a vedere Il secondo tempo Di Atalanta Roma Potremmo capire anche Perché ha fatto così pochi gol Perché ragazzi Nel primo tempo A Dzeko gli sono arrivati palloni Tre palloni sono arrivati Due a buttarli dentro Nel secondo tempo Gli sono arrivati zero palloni Ma proprio Non è che tutti Gli sono arrivati male E' arrivato l'ultimo pallone Un po' scudio No proprio zero Gli sono arrivati Non gli è arrivato uno Nemmeno per sbaglio Di Francesca Ha sbagliato tutti i cambi Tutti 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 Fazio Entra la difesa a tre Sminchia tutto Lentissima La difesa a tre Con Fazio e Marcano È lentissima Non mette Schick Ci sta Perché vabbè Insomma Sono d'accordo Nel non mettere Il 4 Di solito 4 più 4 Inutile Se metti Schick Devi leva a Dzeko Ma tanto il problema Era in fase di costruzione Perché il pallone Non arriva a Dzeko Non è che se tu metti Schick Magicamente il pallone Gli arriva I movimenti sono quelli Il problema era De chi costruiva il gioco Hai messo Klaivert Le van del Sharawi Che era l'unico Che dava un po' di guizzo Quindi non ho capito perché Qualcuno mi ha chiesto Se la Roma Secondo me arriva a quarta Io vi dico Secondo me la Roma Ad oggi Potrebbe pure Di arrivare a terza Però deve proprio Lottare Cioè Comprare diversi giocatori Nel mercato Faccio tre nomi Faccio tre nomi ragazzi Poi vi dico Cosa ci serve E poi vi faccio tre nomi Però Ovviamente se prendono tre giocatori In quei ruoli che ci servono Per prendere chi te pare Un centrale veloce Io ho scritto Nacio Lo sapete Però è un centrale veloce Fate voi Un giocatore che sia Ottimo In fase di costruzione Io ho scritto Tonali Ma fate voi E un giocatore Che sulla fascia Ci abbia il cambio passo Perché Klaivert Non è abbastanza pronto È forte ma non è pronto Perché Underre è giovane Perché il Sharawi È discontinuo Perché Perotti è sempre rotto Io prenderei Deulofeu Di cui si parla adesso anche Di un interessamento del Milan Nacio Tonali E Deulofeu Per me poi arriva pure terzo Però servono quei giocatori Serve il cambio passo Serve chi costruisce Serve il gioco Il centrale di difesa veloce Perché tanti ad inizioni Siamo sempre a fare stessi errori E oggi che è il 26 Quei che giorno è La Roma ancora non ha comprato nessuno E a me sinceramente Stavose mi fa Praticamente Girare i coglioni Come eliche Detto questo Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Questo era il mio Il mio video del giorno dopo Grazie per aver visto questo video ragazzi Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Buonasera E come sempre Ci vediamo al prossimo video Grazie per aver guardato il video